Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, cari signori, parliamo di nuovo dei carri armati inglesi. Come vi ho spiegato anche con l'aiuto dell'amico Gianluca Bertozzi, l'industria britannica non fu in grado per quasi tutta la guerra di venire a capo al problema di fornire alle proprie truppe un carro armato all'altezza della situazione. I problemi dei carri Chrysler, ve li ho già detti, la lentezza del Matilda, l'inaffilabilità dello sceno motore Nuffield che equipaggiava quasi tutti i carri armati inglesi, l'incapacità dell'industria di fare un balzo in avanti per migliorare i propri prodotti. Alla fine della guerra ci riuscirono le ultime versioni del Cromwell che andavano abbastanza bene, il buon carro Comet che andava abbastanza bene e il superlativo Centurion che sarebbe arrivato però soltanto a guerra finita. Nel mezzo ci fu tutta una serie di mezzi che andavano dal poco riuscito al fallimentare, vedi il Coven Hunter, il carro armato a cui occorrevano 20 minuti per inserire la retromarcia a martellate, oppure il povero Centaur che era penalizzato anche quello dallo scena in affidabilità del pessimo motore Nuffield. Ovvero sia se uno Sherman aveva bisogno di un dato 10 il livello di affidabilità, insomma il livello di facilità di manutenzione dello Sherman, il Centaur era Sieno 2, detta così com'è, perché praticamente non si strascinava. Quasi tutta colpa dell'osceno motore Nuffield. Uno dei migliori mezzi corazzati inglesi della prima parte della seconda guerra mondiale fu comunque sia questo, lo Infantry Tank Mark II Churchill, eccolo qua, eccolo qua. Un mezzo potente, lento, pesante, ben protetto ma penalizzato da una struttura superata. Perché? Perché come vedete, come si vince bene dal profilo, la cingolatura alta che avvolgeva lo scafo impediva di montare un anello di torretta più largo e più robusto, una torretta più grande in cui inserire un pezzo d'artiglieria, un cannone più potente del 57 mm. La struttura a cingoli alti che avvolgevano lo scafo impediva di allargare l'anello di torretta, un difetto a cui gli inglesi non avevano pensato. Non facevamo cazzate soltanto noi italiani. Insomma, c'è anche da dire una cosa, c'è una curiosità, il debutto operativo dei Churchill avvenne a Dieppe e la maggior parte dei carri armati sbarcati a Dieppe si arenò miseramente sulla spiaggia di Ciottoli. Quando Winston Churchill andò a visitare, insomma, andò a vedere a Bovington le prove del Churchill, guardò questo carro armato che portava il cognome del suo illustre antenato, il visconte di Marlborough, e disse semplicemente, signori, scusate ma occorre qualche cosa, un coso, un qualche cosa, per impedire che la ruota motrice posteriore si inceppi, si blocchi e scingoli. Insomma, dovete trovare, ho detto, vi consiglio, di studiarvi un coso, un qualche cosa, per liberare dallo sporco, dai sassi e da eventuali detriti la ruota motrice posteriore. Gli ingegneri si guardarono perplessi e dissero, ma mi scusi signor Churchill, ma che cosa intende dire? Ah, non lo so io, però un coso, un qualche cosa per liberare le ruote posteriori dai detriti, perché sennò vi causerà dei problemi. Gli ingegneri scrollarono le spalle e misero comunque sia in produzione il Churchill, che a Dieppe si arenò anche e soprattutto perché veramente mancava una protezione alla ruota motrice posteriore per impedire che sassi e detriti facessero scingolare il carro armato. Il vecchio Winnie, che aveva visto dalle trincee, come dire, quello che poteva fare il fango, quello che potevano fare i detriti, quello che potevano fare le condizioni operative, aveva capito che c'era qualcosa che non andava nel carro che portava il suo cognome, ma non gli diedero retta. Comunque sia, l'infantry tank Mark II Churchill fece una sua onesta parte in guerra, soprattutto quando lo adattarono a svariati compiti per il genio, i famosi carri speciali, tipo quello che stendeva le bobine, quello che portava le fascine, quello che portava il ponte, quello che portava il lanciafiamme, insomma ebbe svariate verso il petard con il suo mortaio da 380 mm, bello, il petard, il Churchill petard, va bene. Praticamente il Churchill nacque nel settembre del 1939. All'epoca lo stato maggiore dell'esercito britannico si rese finalmente conto del fatto che l'Inghilterra non disponeva di un modello di carro pesante in grado di accompagnare efficacemente l'affanteria contro obiettivi fortificati o di contrastare l'azione dei carri tedeschi di ultimo tipo. Meglio tardi che mai, insomma. Le ricerche vennero condotte con lodevole velocità, ma nonostante se si fosse già nel 1939, tutti i modelli che furono studiati erano fortemente influenzati dalle teorie e dai preconcetti della prima guerra mondiale, perché ricordiamoci, quando si combatte una guerra si è sempre pronti a combattere la guerra precedente. Esatto. Allora, diciamo, questi preconcetti risalenti alla grande guerra influenzarono molto lo sviluppo del Churchill e non furono certo solo gli inglesi a cascarci. Vennero presi per il Churchill, vennero presi in considerazione armamenti appesi in gondole laterali, carri con il pezzo principale fisso in casa matta, corazzature enormi e altre formule di questo genere. Dopo solo un anno dall'ordinativo, la ditta era in grado di presentare un prototipo che venne accettato per la produzione in serie. Anche se non era proprio un ritorno ai vecchi schemi dei cosiddetti carri a losanga, ve li ricordate, i carri a losanga della prima guerra mondiale, era pur sempre uno strano carro. Dotato di circoli avvolgenti, aveva una buona manovrabilità e una discreta tenuta di strada. Era ben protetto dalla corazzatura e il pezzo principale era un obice da 76,2 in casa matta, mentre nella torretta c'erano un anticarro da 40 mm e una mitra elettrice da 7,92, mentre c'era un Bren per la difesa antiaerea. Allora, questo tipo denominato Mark 1, Mark 1, venne ben presto modificato sostituendo il pezzo da 76,2 l'obice in scafo con un'altra mitragliatrice e nacque così l'MK2, nacque così questo mezzo qui. Eccolo qua. Inconfondibile. il pezzo da 40 mm fu quasi subito sostituito dal 6 libre, dal 57 mm. Ci furono anche altre versioni, la versione tipo 4 aveva la torretta realizzata per fusione invece che con piastre saldate. Il tipo 5 era il petard che usava un mortaio da 95 mm per il tiro ravvicinato contro le fortificazioni e nel combattimento urbano. C'era anche un mortaio da 280 mm, ancora importante sempre per il combattimento urbano. Si riuscì a fare un tipo 6 con il cannone da 75 mm in torretta e il Mark 7 che aveva una sagoma ridisegnata che rimase in servizio in Europa per molti anni nel dopoguerra, anche se oggettivamente era estremamente inferiore al superlativo Centurion. Il Churchill non fu sicuramente il migliore dei carri inglesi, ma era un mezzo molto apprezzato dai suoi equipaggi, sia per la protezione che per la sufficiente affidabilità, anche perché aveva non il rivoltante motore Nuffield, bensì un più affidabile Bedford 12 cilindri da 350 CV. La velocità massima era di soli 27 km orari e l'autonomia di circa 200 km, ma insomma, sempre meglio del Nuffield, tutto era meglio del Nuffield, siamo sinceri. Praticamente questo carro combatte su tutti i teatri di guerra e in pratica, come dire, non fu sicuramente il migliore dei mezzi corazzati inglesi, perché questo primato aspetta, se vogliamo, al Comet e poi al successivo Centurion, ma fu un discreto mezzo corazzato. Ripeto, aveva delle buone prestazioni in fuoristrada, eccone questo qua, ripeto, il Churchill era in grado di arrampicarsi dove una gran parte dei suoi omologhi americani e anche tedeschi non era in grado neanche di avvicinarsi. I Churchill furono usati da queste parti per affrontare certi caposaldi tedeschi, furono usati anche molto proficuamente per gli attacchi ai bastioni tedeschi della linea gotica, perché, ripeto, aveva eccellenti prestazioni fuoristrada e andava dove tanti altri non riuscivano a passare. Insomma, un mezzo discreto che dimostrò però di avere una grande versatilità come mezzo speciale per i genieri, perché, ripeto, dal carro bobina che srotolava il telo sulla sabbia delle spiagge di sbarco, dal carro fascina per colmare i fossati anticarro, dal carro getta ponte, il crocodile lancia fiamme, il petard con il suo mortaio da 280 mm da usare in ambiente urbano, da usare contro le fortificazioni, da usare contro le postazioni degli anticarro tedeschi. Vi lascio immaginare il botto che faceva. Vabbè, insomma, signori, sono metallaro, le cose che fanno tanto rumore a me piacciono e divertono tanto. Vabbè, lo so, signori, lo so benissimo, la guerra è brutta, la guerra è una bruttissima cosa, però, insomma, quel minimo di infantile divertimento, quel minimo di infantile attrazione per le cose grandi, grosse, brutte, rumorose, che fanno brum brum e che fanno esplosioni spropositate. Vabbè, c'è, che vi posso dire? Insomma, signori, il Churchill fu un carro, se vogliamo, mediocre come carro armato, estremamente versatile e molto utile come veicolo per i genieri, come carro speciale per i genieri, dal carro recupero al carro gettaponte, dal carro fascina al carro bobina per, diciamo, spianare la strada ai mezzi ruotati e corazzati che venivano dietro su terreni difficili. Il Churchill fece onestamente la sua guerra, il Churchill dimostrò che anche un carro non propriamente riuscito, se usato bene, poteva fare la sua nota bene. A quelli che rompono tanto le tasche con la storia dei superiori carristi tedeschi, dell'eroismo dei carristi tedeschi, della vigliaccheria, della pochezza, tutti sono buoni con gli Sherman a massa, eccetera, eccetera. Ok, vi ricordo la storia del tigre 131 custodito a Bovington, eh? Ve lo ricordate? Il tigre, l'invincibile tigre numero 131 custodito a Bovington che fu azzoppato da un ignorantissimo colpo di un ancora più ignorantissimo 57 mm di uno scassone come il Churchill che lo centrò all'anello di torretta bloccando nella torretta, bloccando nel cannone e mandando in tilt gli appiarati di mira. Vi ricordate la storia? Potevano sparare a casaccio col ball col cannone bloccato perché gli inglesi sarebbero fuggiti? Col Churchill. Cioè vi dico solo questo, rendetevi conto di che razza di palle occorreva avere per andare addosso a un tigre col Churchill armato col 57 mm. insomma signori, l'esclusiva del valore e del coraggio non appartiene ai tedeschi. Cioè i tedeschi non hanno certo l'esclusiva del valore e del coraggio e della e della e della gagliardia in guerra. No, 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 non ci siamo proprio signori, non ci siamo proprio. Vabbè, signori scusate la polemicuccia perché ogni tanto i feticisti dei panzer gattoni tedeschi vanno punzecchiati il giusto, abbiate pazienza. E vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e come sempre arrivederci al mio prossimo video. Come sempre aspetto i vostri commenti, come sempre di nuovo ciao!